buongiorno a tutti siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola reginaldo palermo per fare un po il punto su alcune delle riforme di cui ha parlato in tutti questi mesi il ministro dell'istruzione del merito giuseppe valditara iniziamo dalla riforma della valutazione alla scuola primaria a che punto siamo allora in questo momento siamo alla commissione cultura del senato il provvedimento è appunto all'esame della commissione diciamo che siamo ormai alle battute finali e quindi nell'arco di una settimana due settimane o addirittura anche meno il provvedimento dovrebbe essere approvato al senato dopodiché però attenzione ci sarà ancora un passaggio alla camera se non ci sono ostacoli particolari diciamo che entro la metà di aprile quindi immediatamente dopo le festività pasquali il disegno di legge di valditara dovrebbe essere legge a tutti gli effetti e quindi dopo questo passaggio alla camera si potrà partire finalmente assolutamente no perché la legge prevede una una procedura molto particolare e dice che una volta approvata la legge ci vorrà un decreto anzi per la verità un regolamento del governo che dovrà essere approvato secondo la procedura dell'articolo 17 comma 1 della legge 400 dell'88 cosa prevede questa procedura prevede che entro un certo periodo in questo caso entro 180 giorni il governo emani questo regolamento ma per emanare questo regolamento ci vorranno anche qui dei passaggi per esempio bisognerà aver acquisito il parere del consiglio del consiglio di stato quindi non è proprio una procedura semplicissima quindi vediamo se davvero riusciremo ad avere il provvedimento formato in tutta in tutta la sua pienezza entro l'avvio del prossimo anno scolastico è vero che la legge stabilisce 180 giorni ma si potrebbe anche fare questo passaggio questo regolamento in meno di 180 giorni anche se per esperienza sappiamo che difficilmente quando una legge prevede un periodo di 180 giorni si riesce poi a ridurre questo periodo di molto siamo già alla metà alla metà di marzo con i tempi che abbiamo detto potremmo arrivare quindi alla metà di aprile dalla metà di aprile i 180 giorni scadono alla metà di ottobre quindi io la vedo abbastanza difficile però vedremo bene passiamo invece alla riforma della filiera tecnologico professionale sappiamo che sono partite le iscrizioni appunto tra fine gennaio e inizio febbraio a che punto è questo provvedimento e come sta procedendo il tutto insomma intanto diciamo che le iscrizioni non sono state questa esperienza così fantasmagorica come eh qualche d'uno vuol far credere ma comunque adesso a parte questo vediamo a che punto è il provvedimento il provvedimento è stato approvato al senato è stato trasmesso alla camera la camera lo ha incardinato alla metà di febbraio ma a tutt'oggi a tutt'oggi la commissione eh competente eh di fatto non ha ancora iniziato i lavori perché c'è stato ci sono state un paio di mattinate o di giornate di lavoro con delle audizioni ma l'esame vero e proprio del provvedimento non è ancora eh iniziato quindi ci vorrà ancora un po' di tempo perché questa questo disegno di legge eh diventi legge a tutti gli effetti dopodiché in questo caso anche qui ci vorrà un eh decreto successivo ci vorrà un decreto eh interministeriale per la filiera tecnologico professionale di istruzioni università eh economia e finanze e lavoro ma attenzione ci vorrà anche l'intesa preventiva con le regioni ora qui nasce anche un altro problema che nel frattempo sappiamo che la eh legge il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata eh ormai è alle battute finali quindi eh bisognerà vedere se il disegno di legge Calderoli non modificherà eh in questo ambito delle prerogative della delle regioni e quindi bisognerà capire come avverrà il passaggio dalle regioni. Passiamo invece al liceo Made in Italy come sta andando? Anche qui ci sono state ci sono stati dei numeri particolari sulle iscrizioni. Beh le iscrizioni diciamo la verità sono andate veramente eh molto male insomma se ne sono contate poche eh centinaia eh in tutte le scuole d'Italia ma soprattutto eh queste iscrizioni sono state eh distribuite su tante scuole quindi eh in quindi diciamo che il numero di iscrizioni per ciascuna scuola è stato davvero molto molto basso quindi non lo so vedremo che cosa eh il ministero riuscirà a far partire a settembre del duemilaventiquattro ma eh veniamo invece alla legge. La legge è la 206 del 27 dicembre 2023 quindi sembra che ormai c'è la legge e si può procedere tranquillamente. Anche in questo caso niente affatto perché la legge prevede che eh il liceo Made in Italy venga avviato eh con un regolamento anche qui eh che deve essere approvato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ora la legge è entrata in vigore a fine dicembre il regolamento dovrebbe arrivare entro la fine di marzo. Sì peccato che eh fino a questo momento del regolamento non c'è ancora traccia. Teniamo conto che la procedura prevista dalla legge quattrocento che è quella che definisce le modalità con cui si approvano i regolamenti. Appunto la legge quattrocento che cosa prevede? Prevede che in questo caso specifico ci sia una uno schema di regolamento approvato dal consiglio dei ministri e finora il consiglio dei ministri non ha deliberato assolutamente nulla. Poi si deve si deve acquisire il parere della conferenza unificata eh Stato regioni enti locali e anche qui ovviamente non c'è nulla e soprattutto ci deve essere un passaggio in Parlamento cioè lo schema di regolamento deve essere deve acquisire anche il parere eh delle commissioni parlamentari. Siamo alla fine di eh marzo la l'intera procedura deve ancora prendere avvio quindi francamente eh diventa difficile pensare che per settembre del ventiquattro sia tutto perfettamente a posto però la vedremo perché appunto eh non sappiamo in che modo il ministero stia lavorando alla predisposizione di questo schema di regolamento. Infine passiamo ad un'altra grande riforma del ministro Valditara che è quella dell'orientamento del docente tutore dell'orientatore. Come sta andando? Dalle notizie che arrivano anche da quello che noi stessi abbiamo scritto proprio in questi giorni non è che le cose stiano andando benissimo perché eh nelle scuole non è che si stia facendo poi tutto questo gran lavoro per utilizzare eh docenti tutor e docenti orientatori per diminuire veramente il la eh dispersione scolastica perché poi è questo l'obiettivo l'obiettivo della riforma. Le notizie che arrivano sono abbastanza desolanti. Vediamo se in questi ultimi due mesi perché oramai appunto il periodo di tempo che ci separa dalla fine dell'anno scolastico è quello. Vediamo se in questi due mesi il ministero riuscirà a recuperare eh il tempo che non è stato ben utilizzato fino a questo momento. Io ho qualche dubbio però voglio dire questo non significa nulla. Questi sono miei dubbi personali. Vedremo poi effettivamente che cosa succederà. Bene. Grazie al vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo per queste risposte e ci vediamo al prossimo approfondimento. Un saluto a tutti. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori e lettori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.